C'era una volta croce una frazione del comune di Rocchetta nell'alto casertano. Ora è un paesino fantasma con un destino forse già segnato dal nome. Vederla è uno spettacolo desolante, non c'è più un abitante, l'ultimo è scomparso alcuni anni fa. In estate forse potrebbero essercene due, ci dicono, se tornano. C'è silenzio. Solo un cane si sente abbaiare a distanza dal piccolo paesino nascosto dai rovi ai piedi di Monte Maggiore, una volta a crocevia per i tanti devoti di San Salvatore, una chiesa inerpicata lassù in alto. Qui sono scappati tutti, non c'è più nulla, di mezzi pubblici nemmeno a parlarne, nessuna scuola, nessun medico, nessun ufficio comunale, nessun negozio. Una frazione cancellata certamente anche dalle politiche sbagliate, dalle stesse amministrazioni comunali che si sono succedute che probabilmente non hanno fatto abbastanza per frenare lo spopolamento. Un cirone infernale per i giovani, i bambini, gli anziani, tutti scappati. Noi ci siamo andati a croce, è una giornata di sole, ci lasciamo alle spalle Formicola e Ponte Latone e saliamo per qualche chilometro. Non c'è nessuno, proviamo ad entrare nel piccolo vicolo, l'unico che consente l'accesso in centro, con la speranza di incontrare qualcuno. Troviamo invece un'atmosfera surreale, un silenzio assordante, l'unico rumore sono i nostri passi sui sanpietrini sistemati di recente. Non ci sono insegne di un vecchio negozio, una vecchia cabina telefonica, un'indicazione, ma anche niente traffico, niente stress, niente lite tra condomini, né un gattino e che gli darebbe da mangiare. Anche una vecchia chiesa nel centro del piccolo borgo, per quello che ne è rimasta, è sgarrupata, come direbbe il compianto maestro e scrittore Marcello d'Orta. Non c'è più nulla da vedere né da visitare, ma resta solo un forte rimpianto e tanta malinconia per un borgo dove una volta c'era la vita. Circa una settantina di persone ci ricorda un anziano di un paese vicino che conosceva per nome tutti gli abitanti di Croce e ora non c'è neppure con chi parlare. Ma noi non ci arrentiamo e ci imbattiamo con un anziano che questo posto lo ha vissuto, frequentato e i suoi ricordi sono ancora vivi. In particolare mi ricordo che la gente ci accolleva molto bene, ci faceva una festa perché noi andavamo a San Salvatore che è una piccola chiesetta a Strapiumbo su Montemaggiore e niente e mi ricordo, ripeto questo qua, che la gente era molto felice che noi facevamo questo pellegrinaggio. Era molta la gente qui di Croce? Sì, era abitata abbastanza, c'era molta molta gente che poi quasi veniva a piedi perché non c'era la strada. Da Rocchetta venire a Croce si veniva a piedi come pure Santo Salvatore. dopo hanno fatto la strada, ma all'epoca si veniva a piedi, allora la gente era contenta, ci festeggiava, ci faceva da mangiare, ci dava da bere, tutte queste cose bellissime. Questa è Croce, il borgo fantasma nel comune di Rocchetta in provincia di Caserta, quella che noi abbiamo visitata e quella che noi vi abbiamo raccontato. Da Rocchetta e Croce è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it Grazie a tutti.